A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Benvenuti all'appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il fine settimana. Vediamo come di consueto il tempo che abbiamo avuto sino ad oggi, in particolar modo come si è concluso il mese di gennaio. In questo mese abbiamo avuto 12 giorni con cielo sereno poco nuvoloso, 6 giornate variabili e 13 giorni con cielo molto nuvoloso coperto. Le piogge che sono cadute in gennaio sono state abbondanti, 149 mm. In media ci saremmo attesi 80,2 mm e questo valore medio è calcolato con i dati degli ultimi 54 anni, da quando iniziano le registrazioni del Centro Geofisico. Abbiamo quindi un eccesso pluviometrico di più 68,8 mm. Per quel che riguarda invece le temperature di gennaio è stato un mese leggermente più freddo di quello che ci saremmo aspettati. Infatti 2,7 gradi la temperatura media contro 3 gradi di temperatura media degli ultimi 54 anni. Le giornate più calda ha fatto registrare una massima di 13 gradi il giorno 14, quindi resta il record di 23,5 gradi registrato il 28 gennaio 2008. Anche la temperatura minima non è stata un valore record, meno 3,5 gradi dell'11 gennaio 2021 contro il meno 12,5 del 7 gennaio 1985. Per quel che riguarda il mese di febbraio dobbiamo attenderci una temperatura media di 4,5 gradi, 11 giornate con cielo sereno, poco nuvoloso, 10 giorni di pioggia e un paio di giornate in cui è possibile che cada la neve in media cadono in febbraio a Varese 10 cm. Veniamo adesso all'immagine ripresa dal satellite Meteosat da una distanza di 36.000 km dalla superficie terrestre. Vediamo nell'immagine la situazione alle ore 14, troviamo sulla nostra penisola ancora la presenza di nuvolosità bassa sulla fascia di pianura sulle nostre regioni e troviamo invece una perturbazione che adesso si trova ancora vicina all'Atlantico che raggiungerà i nostri cieli nella giornata di domani e porterà delle precipitazioni consistenti soprattutto nella giornata di domenica. Possiamo adesso passare all'immagine delle isobare, linee che uniscono punti di uguale pressione atmosferica. Troviamo anche le principali perturbazioni, quindi vediamo bene l'area di bassa pressione che ha al suo minimo sulle isole britanniche con un minimo di 1000 etto pascale e adesso sono collegate le perturbazioni, i fronti che transiteranno sui nostri cieli portando pioggia. La situazione resta poi instabile con correnti da sud-ovest fino ad arrivare a giovedì quando poi avremo invece un miglioramento delle condizioni meteo. Ma vediamo adesso le previsioni del tempo. La sera di venerdì vedrà dei passaggi nuvolosi estesi, formazione di foschia, qualche banco di nebbia sulla fascia di pianura. La giornata di domani sabato inizierà con un cielo molto nuvoloso o coperto ma ancora asciutto. Avremo prime piovigini nel pomeriggio e piogge più consistenti a partire da ovest nella serata e nella notte. La neve cadrà sulla fascia alpina al di sopra dei 1200 metri. Temperature miti date le correnti da sud-ovest con massime di 8-11 gradi e minime di 5-8 gradi. La giornata di domenica sarà una giornata con cielo molto nuvoloso o coperto, temperature senza variazioni quindi ancora relativamente mite. Delle nevicate al di sopra dei 1200 metri localmente nelle valli più fredde il limite potrà abbassarsi fino ad arrivare anche ai 700-800 ma solo metri, soltanto però nelle valli più fredde. Le situazioni poi nei giorni successivi lunedì ancora continuano le precipitazioni soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio che tenderanno poi a spostarsi verso est lasciando spazio anche a qualche schiarita sulla Lombardia ovest. Le giornate di martedì e di mercoledì saranno delle giornate ancora caratterizzate da instabilità con molti passaggi nuvolosi a tratti possibili pioviggini soprattutto nella giornata di mercoledì. A partire da giovedì invece giornate soleggiate. Con questo è tutto concluso, vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie.